Dico al mio avversario, io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronta a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre, liberamente. Ecco quello che io dico ai giovani, senza presunzione, quasi fossi un loro compagno di strada, tanto mi sta a cuore la loro sorte. E io li esorto a difendere e andare avanti, a continuare per la loro strada, a cercare nella scuola tutte le conizioni necessarie ad ascoltare i loro docenti per adornare la loro mente di conizioni utili che serviranno a loro domani per svolgere un'attività nel nostro paese. E voi giovani siete la futura classe dirigente del nostro paese, dovete quindi prepararvi per assolvere degnamente questo nobilissimo compito. Ebbene, io finché vita sarà in me, starò al vostro fianco nelle vostre lotte, giovani che mi ascoltate. Lotterò sempre al vostro fianco per la pace nel mondo, per la libertà e per la giustizia sociale. Buon anno a tutti voi, miei connazionali italiani e italiane. Perdonate se ho turbato la vostra vigilia di Capodanno. Grazie.